Sarà un festival ricchissimo e molto vario, fatto di tantissime proposte, dai grandi nomi del cinema contemporaneo ai film più attesi della nuova stagione, ma anche tante scoperte, tanto cinema che viene da paesi meno frequentati dalla distribuzione commerciale, tanti nuovi autori, giovani autori di grande talento e quindi un festival che esplora il cinema contemporaneo a 360 gradi senza pregiudizi e senza limiti. Le parole chiave di questa edizione? Le parole chiave sono il ritorno alla normalità dell'esperienza festivaliera dopo due anni di limitazioni imposte dalla pandemia, Il ritorno del pubblico? Cinque film italiani in concorso di qualità? Assolutamente sì, poi ce ne sono altri in concorso a Orizzonti, concorso a Orizzonti Extra, qualcosa anche fuori concorso, sono i film migliori che abbiamo visto di una produzione enorme, persino troppo sovrabbondante. L'Academy viene a Venezia per la prima volta a presentare il suo nuovo amministratore delegato, un modo per sancire un rapporto non formalizzato che ormai esisteva da anni. Lo sapete, da Venezia sono partiti quattro film che hanno vinto l'Oscar per i migliori film e addirittura in nove anni sette registi che hanno vinto la statuetta ambitissima come miglior regista dell'anno. Lasciatevi invece guidare dal sesto senso per andare alla caccia dei tanti tesori nascosti in questo programma.